La via Quintana nell'accampamento romano separava il quinto dal sesto manipolo ed era destinata agli esercizi di addestramento. I legionari dovevano conficcare in tale via un palo alto sei piedi e allenarsi mattino e sera colpendolo in punti precisi con la spada o con il giavellotto, come se fosse un mero nemico. Durante la civiltà feudale questo gioco assunse il carattere di esercizio di destrezza più che di forza e dal bersaglio fisso si passò a quello mobile, con le sembianze di un saracino o saraceno che colpito ruotava intorno al palo. Il culmine della Quintana è proprio la giostra del saracino rappresentata in questo carro, cioè la tensione nella quale si affrontavano i duellanti per la conquista del palio. Grazie! 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 Grazie!